Lei l'altra volta aveva dato un numero di telefono agli ascoltatori che continuano a fare delle code incredibili che hanno tempi lunghi per riuscire a fare delle visite, è ancora valida quella cosa? Sì, ho dato un numero di telefono che è 041 279 28 63, ma anche perché dalle segnalazioni magari si capisce se c'è qualche disguido in particolare. Poi devo dire che io sto investendo, stiamo investendo, accelerando sul tema delle liste d'attesa, gli ospedali aperti di notte, nuove modalità eccetera. Voglio sempre ricordare ai cittadini che noi eroghiamo 80 milioni di prestazioni all'anno, cioè vuol dire che 80 milioni di volte c'è qualcuno che arriva in ospedale e ha una prestazione erogata per 80 milioni di volte. Quindi a volte accade che ci sia una lista d'attesa un po' più lunga, altre volte accade che la lista sia troppo lunga, a volte accade che la lista troppo lunga dipenda dalla disorganizzazione e non dal fatto che ci siano tanti pazienti. Se mi vengono segnalate con un nome e cognome riesco a fare una verifica e diciamo che lo sbaglio magari su uno diventa virtuosità per tutti gli altri perché si corregge l'errore. Grazie a tutti.